Abbiamo messo al sicuro il 10% dei siciliani, dobbiamo adesso passare alle isole minori, soprattutto a quelle di frontiera e quindi parlo di Lampedusa e Linosa. In questo fine settimana vaccineremo quei cittadini dai 18 anni in su e poi passeremo alle altre isole. Intanto da domani si ricevono in Sicilia le prenotazioni per gli ultra 50 anni. Dobbiamo correre velocemente, dobbiamo sperare che i medici di medicina generale ci aiutino ancora di più nel vaccinare i più fragili, gli ultra 80 anni, dei quali conoscono tutto, patologie e indirizzi e quindi che si schierino senza alcun tentennamento accanto a noi e andiamo avanti perché è giusto che entro l'estate la stragrande maggioranza dei siciliani possa essere messa al sicuro.